Vittorio Emanuele Parsi, buongiorno, professore, esperto di geopolitica dell'Università Cattolica. Quanto c'entrano con questo clima, diciamo, le parole di Erdogan sui nuovi crociati, gli attacchi a Macron, gli attacchi alla Francia? Quanto contribuisce a creare questo clima di tensione, che poi degenera infatti di questo tipo? Ma buongiorno, sicuramente le relazioni franco-turche non erano al loro massimo, al loro splendore. Tutto quello che crea tensione alimenta comunque la possibilità che qualcuno fraintende e faccia cose di questo genere. Va anche detto che nella polemica franco-turca le posizioni di Erdogan le conosciamo, Macron stesso aveva però fatto affermazioni, mi avviso, inappropriate e inadeguate sull'Islam malato, su cosa gli Islam dovesse fare per riformarsi, che non sono in linea con la tradizione laita della Francia e delle istituzioni francesi, che hanno un atteggiamento di, diciamo così, benevola indifferenza rispetto alle istituzioni e alle tematiche religiose. Quindi su questo probabilmente trascinate ognuno dalle polemiche, dai fatti gravissimi che sono accaduti in Francia in questo mese e dalle tensioni internazionali, diciamo hanno sicuramente il concorso a non gettare acqua sul fuoco. Senta professore, è un fatto che il killer di Nizza sia arrivato, sia sbarcato a Lampedusa, sia arrivato a Lampedusa con un barchino a settembre, ha fatto un periodo di quarantena e poi ha avuto un foglio di via, però sostanzialmente questa uscita da territorio italiano non è stata controllata. Ecco, al netto delle polemiche politiche che, seppure ci sono in queste ore, insomma, le chiedo di commentare questo fatto. Beh, intanto questo denuncia un problema che l'Italia sottopone agli altri paesi europei da molti anni. Cioè che c'è un problema comune di sicurezza e di, diciamo così, controllo delle comuni confini e frontiere europee e su questo in realtà l'Italia è sostanzialmente da sempre lasciata sola ad occuparsene. E questo è un problema che c'era prima, c'è e viene semplicemente ribadito ogni volta che questo succede. Poi c'è un problema specifico italiano, che visto che se ne parla tanto di questa parola in questi mesi, per altri motivi, che è quello della tracciabilità. In Italia è difficile tracciare i redditi per il fisco, è difficile tracciare i contagianti del Covid, è difficile tracciare le persone che arrivano in Italia senza documenti in regola e che poi si muovono, si spostano e vanno da tutte le parti. Questo è un problema, mi avviso, italiano che è sempre preso sotto gamba dalle istituzioni. È un problema per cui molte cose in Italia diventano oggetto di polemica partitica spicciola e non danno una coerenza di linea politica, non danno l'idea che c'è un'applicazione della legge nella fermezza e nell'umanità, ma con coerenza, con continuità. Quindi questo è un problema nostro che dovremmo cercare di risolvere. E penso che avrà in qualche modo sicuramente uno sviluppo nel dibattito politico italiano, ma in qualche modo con la Francia questo tornerà a essere un tema, perché i francesi spesso hanno chiuso 20 miglia lamentando che gli italiani non... Beh, è un tema sicuramente europeo, professore, no? Certo. Ah, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Guardi, proprio 24 ore prima il nostro Premier aveva parlato della necessità di gestire in maniera coordinata europea il Covid, ripeto, resta da anni la questione di gestire in maniera coordinata europea la sicurezza e i confini comuni. Allora, ringraziamo il professor Parsi, ricordando che il suo ultimo libro mette in relazione proprio i recenti... come dire, il quadro geopolitico internazionale con la pandemia, a titolo è Vulnerabili. Grazie, grazie professor Parsi.